Nata dall'associazione omonima inizierà domani la due giorni, merdi 2 sabato 3 agosto, nel comune di Pineto denominata Infiamma, in piazza Giardino delle Ninfee nel quartiere Corfu, dalle 19.30 a mezzanotte. Musica, cooking show e soprattutto degustazioni di prodotti che sono le eccellenze agroalimentari regionali. La prima edizione punta l'attenzione sulla patata abruzzese del fucino di Pizzo Ferrato e Turchesa ed ha avuto il sostegno della presidenza del Consiglio regionale. Tende anche a far conoscere meglio i nostri prodotti che poi vengono utilizzati dalla cucina, come la patata del fucino, l'aglio rosso di Sulmona, lo zafferano dell'Aquila e poi soprattutto il nostro straordinario olio d'oliva e il nostro vino. Infatti so che nel corso di questa manifestazione si saranno fatte anche degustazioni di vino abruzzese. Ecco, io penso che questo sia il settore che in questo momento tira di più per l'economia regionale e noi istituzioni dobbiamo affiancare l'attività che svolgono alcune associazioni per valorizzare questo patrimonio straordinario della nostra terra. Questa è una nuova associazione che si chiama Infiamma, composta da persone che hanno già esperienza nel settore enogastronomico, però con questa nuova associazione vogliono promuovere i prodotti tipici locali, quindi dando le giuste informazioni e in questo caso si parlerà della patata. In vetrina ci saranno tutte le eccellenze del gusto e anche un percorso di degustazione vini e birre artigianali. In scena ci sono i migliori chef regionali abruzzesi che si birranno in un cookie show. Venerdì sera i protagonisti saranno Peppino Tinari del Villa Maiella di Guardia Grele, Claudio De Remigio del ristorante La Conchiglia d'Oro di Pineto e Fabrizio Camprone della pasticceria Caprissa di Pescara. Sabato sera invece i protagonisti sono Marzia Buzanca di Percorsi di Gusto, la pizzeria gourmet dell'Aquila e William Zonfa, anima del Magione Papale, sempre dell'Aquila.